Una due giorni ricca, quella organizzata dal sindacato ANAO sulla medicina d'emergenza con gli esperti nazionali della materia, in un momento in cui c'è una carenza cronica di specialisti e una crisi delle vocazioni. A fare il punto il dottor Alessandro Grimaldi, segretario ANAO a Sommed Abruzzo, coordinatore dei segretari regionali, nonché neopresidente dell'ordine dei medici della provincia. Tante le criticità ai cambiamenti emersi durante il covid e quindi c'è una necessità importante di riorganizzare e migliorare la funzionalità del sistema ex ospedaliero di emergenza-urgenza, ma sono sempre di meno i medici che scelgono di avviare questa specialistica. Ci saranno durante il convegno anche delle workstation su accessi vascolari, gestione delle vie aeree, trauma, insomma delle prove e pratiche, ma i dati sono preoccupanti. Basti pensare ai posti banditi assegnati in questo campo all'ultima edizione del concorso per le scuole di specializzazione di medicina. I dati forniscono un quadro impietoso, appena 304 contratti sono stati assegnati su 1.020 disponibili, ovvero il 30% del totale. La specializzazione dunque va resa più attrattiva. Anao e Pietro Paci hanno deciso di organizzare un evento nazionale qui all'Aquila e proprio per affrontare il problema delle emergenze. L'Aquila d'altronde è una città avvezza alle emergenze, si parlerà anche delle maxi emergenze tipo il terremoto e il problema in questo momento più importante, più rilevante è sicuramente il fatto della carenza di specialisti o diciamo ancora meglio di una carenza di vocazioni. I giovani scelgono altre specialità più remunerative e probabilmente anche meno rischiose. Ecco perché secondo me occorre ripensare un po' tutto il sistema sia di selezione che di remunerazione di coloro che lavorano in questo ambito. La pandemia ha un po' spostato tanti equilibri? Beh sì, molto. Ha fatto capire che l'Italia ad esempio aveva 5-6 mila posti di rianimazione mentre la Germania ce n'aveva il triplo. Quindi bisogna investire molto considerando anche che abbiamo mediamente una popolazione anziana quindi è necessario dare una svolta. Purtroppo questa svolta non si vede molto all'orizzonte perché come vediamo gli investimenti sulla sanità rimangono pochi rispetto al PIL. Spendiamo mediamente il 6,2% del PIL quando altri paesi spendono l'8 e il 9% come la Francia e la Germania.